Ciao ragazzi, io sono Ale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come potete ben vedere, sono in compagnia di un nuovo microfono, ossia il Tascam DR-05X. Questo piccolino che non vedevo l'ora di usare, ed è questa la sorpresa di cui vi parlavo, insomma, la novità di cui vi ho accennato negli scorsi video. Spero davvero vi piaccia, perché sinceramente è il primo microfono che acquisto adatto all'smr, e sono davvero curioso di sapere cosa ne pensate. E' molto molto bello, perché ha innanzitutto due microfoni, in modo da poter registrare l'audio sinistro e quello destro ai due, appunto, canali. Quindi è in grado di registrare un audio binaurale e più immersivo. Chiaramente poi ha anche la modalità mono, e quindi è come un normale microfono, come il mio precedente microfono, e quindi si sente a destra e a sinistra uguale. E poi è molto 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 sensibile. Spero di parlare a volume giusto. Ho fatto qualche prova, però insomma, siccome è il primo video che giro con questo microfono, chiaramente può essere che faccia qualche errore, ecco. Quindi scusate, non anticipo. Ok, quindi vi faccio sentire un po' di trigger oggi con questo microfono, immordate, starlo al meglio. Vi anticipo anche che ho già preso anche delle spugnette da andare a mettere, appunto, sopra il microfono per fare qualche video un po' particolare o comunque per limitare quelli che sono anche i suffi del respiro sui microfoni. Un po' di delle pixel da scama, da orecchio, da orecchio, da orecchio. Mi sono dimenticato di prendere un libro, vabbè, perché volevo fare un po' di inaudible, però lo faccio comunque parlando più un attimo. Inizio, sono molto 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 moltobbile, perché il piero mi permette di prendere un po' di inaudible con le cuffie, come certificate non ne è molto molto, quindi se ho diventato un po' di inaudible. Perché è molto 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 bene. quindi sono davvero curioso di fare un'idea di questo tipo di sperimentare secondo me è bello perchè appunto lo potete sentire ok questo era un breve 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 inaudible diciamo che non ho mai fatto video inaudible quindi insomma era una prova di inaudible però so che questo microfono permette di avere degli inaudible davvero pazzeschi quindi insomma mi impegnerò ora facciamo un po' di tapping un po' di tapping sulle aeropods ragazzi è pazzesco si sentono un sacco anche i suoni delle mani wow poi secondo me è molto carino il suono di questo puro cacao scusate ci sono dei rumori di sottofondo ma ragazzi veramente non lo so ogni volta che registro a parte le ultime due volte c'è sempre il casino più totale e chiaramente se c'è troppo rumore io fermo la registrazione altrimenti continuo per forza di cose altrimenti per registrare un video di 20-25 minuti ci metterei 2-3 ore quindi insomma mi spiace però cercherò di tagliare tutti i rumori più fastidiosi quindi la 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 ok ragazzi un altro suono che secondo me è molto particolare e piacevole è quello dei fazzoletti del pacchetto di fazzoletti nuovo perché non lo so mi piace di più rispetto a quelli già con un fazzoletto di usati e un mix tra il suono dei dischetti di cotone e il gelatino squishy perché è scoppiato un po' quindi non lo so mi piace comunque come mix di suoni e e quindi Grazie a tutti. 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 Buonanotte. 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 Grazie.